Il mondo si pone una domanda Perché ho attaccato gli Stati Uniti? Per più di un secolo gli Stati Uniti hanno tenuto il mondo in un perenne stato di conflitto Più e più volte abbiamo visto gli esiti catastrofici di queste politiche militariste e belligeranti Queste guerre non hanno mai portato alla pace Queste guerre hanno soltanto alimentato altre guerre Gli Stati Uniti hanno dettato la linea solo perché erano i più forti Ma ora non è più così Non è l'inizio di una guerra Ma la fine di tutte le guerre Dopo San Francisco il mondo libero si era rivoltato contro Atlas Iron si era chiuso nella sua base di New Baghdad Tagliando qualsiasi contatto Entrambe le parti sapevano che cosa aspettarsi Dovevamo volare con la 37esima avio trasportata nella fase iniziale dell'assalto Per poi separarci e infiltrarci nel centro di comando di Atlas per prendere Irons Per Cormac era la fine di un viaggio Un giorno che aspettava da cinque anni Cambio di programma Dovrete spostarvi da nord-est e coprire la squadra blu mentre sorvola il bersaglio Ricevuto Credo avremo vita fa Fossi in te aspetterei a dirlo Non mi giocherò tutte le carte in una volta Avremo un solo tentativo per catturarlo Sarà sufficiente Lo so E non provate a morire non prima di aver trascinato Irons davanti all'aia Non vedo l'ora signore Ok, buona fortuna Non c'era altro da dire Sapevamo che cosa andava fatto Era l'inizio della fine Almeno per uno di noi Sentinel 2-1 verso APC Romeo Victor Naut 5.000 piedi Ricevuto Mantenere volo radente fino a New Baghdad Kimping chiudo Unità Sentinel Ascoltate Inghaggiare chiunque sia privo di segnale Sentinel Cominciamo a fare Ora in meno Imposcata Direzione 3-1-5 Mi puntano Occhio ai trazzati Attenzione ai detriti Si arrivano altri dal Grinale, ore 2 Abbattere Grazie per la copertura Mi hai salvato Ottimo Beccato Contraerea Dai Masso Al Blower per passare Michel, non farti abbattere Droni Phanax davanti Quattro periboli di inserimento Ore 2 Cuoco a voluta Michel, resta a meno di fuomina Distrutto Michel, resta nella gola Ore 12 Masso Viro a sinistra Dietro di te, Michel Michel, resta a meno di fuomina Distrutto Michel, occhio alle ali Ore 12 Masso Viro a sinistra Dietro di te, Michel Michel, resta nella gola Caduta Massi Occhio ai Massi Michel, meglio stare bassi Dietro di te, Michel Michel, aiuto Diga idroelettrica in Michel Punta quei supporti e colpicili con i Michel Fondo diretto Attenzione ai detriti Versaglio di più Se hai uno in coda, Michel Dietro di te, Michel Contro Quattro a poste Detriti Manovra evative Super la CP5 Ore 12 Quattro in rotta di collisione Versaglio distrutto Tornano indietro Ore 6 In alto Distrutto Volo 2 Carico in volo Avvicinati Apri il fuoco Versaglio distrutto Diga di chiara Sì È mio Ce l'ho Ottimo Merda Comando Qui senti nel 0-1 In avvicinamento a New Baghdad Ricevuto 0-1 Difesa aeree nemiche a 1,5 km Avvio sequenza di lancio Pilota automatico inserito Lancio riuscito 1200 metri al bersaglio Riduzione emissioni energetiche Entriamo in modalità furtiva Ricevuto 0-1 Siete invisibili 2-1 Direzione 3-1-5 A quota 2.400 Versaglio a 2.000 nautiche di distanza Passo Connessione alla rete del campo di battaglia Il bersaglio principale È il centro di comando Da cui Irons dirige le operazioni di Atlas La città è difesa Da una serie di torrette antiaeree Vanno distrutte O possiamo scortarci il centro di comando 200 metri al bersaglio Scollegare e prepararsi all'atterraggio Scendiamo Tenetevi forte Degelerazione Contatto 1-10 Direzione 3-1 Direzione 3-1 Cerchiamo di avanzare Nell'interno finanziario Ma le forze andate Dall'impugno tutto il settore Ricevuto Ci portiamo in alto Oltre le linee nemiche L'obiettivo dritto davanti a noi David Avanziamo verso l'obiettivo Ricevuto Ti mando altre due squadre Comando Senti nel 2-1 actual Deviamo e sfondiamo le linee nemiche Per supportare il 95 Dai dai All'obiettivo Torniamo fuoco di soppressione Fantastico 2-1, qui si fanno 6 kick. Neutralizzate le torrette. Buon avvertì! Togliamo di mezzo quelle torrette! Contatto! 3-2-3, qui, a mano! Torno di soldazione! Come si fanno 6 kick. Neutralizzate le torrette. Contatto! 2-1, qui si fanno 6 kick. Neutralizzate le torrette! Contatto! Contatto! La riposizione, risponde dal mondo. Roger, affermazione. Distrutta! Contatto! Nel piano dell'obiettivo! La vedo! L'edificio accanto, piano posteriore. La trattora è trattiva! Spostiamola! 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 Moverse! Doviamo di metto quelle torrenti! Spostiamola! Spostiamola! Uomo a terra! Uomo a terra! Uomo a terra! Sono tutta a dolce! Spostiamola! Aref 3! Qui in Nemesis 1! Lui aref! Affermativo, potato! Versaglio ovest del palazzo Alcani Financial! AST Multipee e... Tre peggi pesanti! AST! Avanzare! Unità MEC pesanti in avvicinamento! Distruggetele! Distruggiamoli! Arrattiamo verso il centro operativo! Unità MEC pesanti in avvicinamento! Distruggetele! Reggio oveste di un'interazione operativo! Aeroscopata di Praziali concentrating? Dif Juni! Anche a scherzare in posizione e fare rapporti! d Unità max esalti in avvicinamento. Distruggetele! 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 Struzzemoli! 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 Capimi Gideon! Laggiù c'è un deposito di armi! Mitchell, vai con lui e prendete gli Stinger! Vi copriamo! Via, via, via! Picocro, Mitchell, prendi lo Stinger! Sciame di droni! Struzzemoli! Che cazzo fanno? L'ha fatto! Cazzo! L'ha fatto davvero! Che succede? Nox a terra! Serve evacuazione medica immediata! No! È Manticore! Dobbiamo andarcene! Tutti quanti! Su di noi non funziona! Irons l'ha reso inefficace sulle sue truppe! Noi tre siamo stati immunizzati! Fuoco! Fuoco! Cittadini di New Baghdad! Tenete duro! La vittoria è vicina! Guardatevi intorno e vedrete i nostri nemici cadere ai nostri piedi uno dopo l'altro! Ciascuno di voi ha il potere di cambiare il mondo! Sì! Subiremo altre dolorose perdite! Altre tragiche sconfitte! Ma non dubitate! Alla fine vinceremo! Presto avrete la sicurezza che desiderate! La sicurezza che meritate! Ma... Solo se sarete disposti a combattere per combattarla! Quindi combattete! Allora... Gliadine! Allora, Allora, Stai! Grazie a tutti